Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Romina Mondello è stata per anni sulla cresta dell'onda come interprete di numerosi contenuti per il piccolo e grande schermo, ma che fine ha fatto oggi la ex di Raul Bova? La bellissima attrice italiana ha realizzato tantissimi film per il cinema e per la tv in passato, ma ora non si vede spesso come prima. Scopriamo che cosa fa adesso.Romina Mondello, balzata agli onori della cronaca per la love story con Raul Bova, non appare in tv come prima. Ecco che fine ha fatto la famosa attrice di La Piovra Oggi.Raul Bova, che fine ha fatto la sua ex fiamma. Raul Bova è da sempre un attore bellissimo e super corteggiato dalle donne. Le sue storie d'amore più importanti sono state con la veterinaria Chiara Giordano, e diversi anni dopo con Rosio Munoz Morales. Con Chiara, la sua prima moglie, è convolato a nozze nel 2000, e la coppia ha avuto due figli, Alessandro Leone e Francesco. Purtroppo però i due hanno divorziato nel 2013.Dopo la dolorosa separazione però l'affascinante attore di Il piccolo grande amore ha incontrato l'attrice per la quale ha perso la testa, conosciuta sul set del film Immaturi il viaggio. Rosio e Bova fanno ancora coppia fissa, e a quanto pare sono super innamorati. Prima di incontrare la donna che sarebbe diventata poi sua moglie Raul Bova ha avuto un filrt con una sua bellissima collega. Si tratta di Romina Mondello, i due si sono conosciuti durante le riprese del film La piovra 7 e hanno avuto una relazione sentimentale, naufragata però dopo poco. Romina Mondello oggi.Romina Mondello a partire dagli anni 90 ha recitato in tantissimi contenuti di successo, sia per il piccolo che per il grande schermo. Tra queste la serie che l'ha resa celebre è stata Le ragazze di Piazza di Spagna, tratto dall'omonimo film e anche Cuccioli, Sospetti 2 e la celebre Fiction R. S Delitti imperfetti, dove dal 2005 al 2009 ha vestito i panni di Georgia Levy. L'attrice negli ultimi anni appare un po' di meno in tv rispetto al passato, ma non ha mai smesso di recitare. Nel 2018 infatti ha recitato nella pellicola Liberi sognatori delitti di mafia. In questo periodo Romina Mondello ha appena concluso le riprese del film Even, diretto dal regista Giulio Ancora, che sono cominciate a marzo. Per il regista è la sua pellicola di debutto e sarà ambientata tutta in Calabria, tra la Sila e la città di Cosenza. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!